Chi viene in più? Ci siamo! Ciao Federico Speller, ciao Loppe, lo saluto a tutti i piedi dalla serie dei Marantana, abbiamo creato il Genetici di un anno a Cienova! Ciao Giulia Fiora, Andrea Tilley, Andrea Ditte, Mr. Max Agendini, Dimo Roselli, questa sera c'è anche la Monica, la Ciccetta, il Baselato Labico, Simone Alconi, la Chiara, Illo, i ragazzi della magica, Roberto Bordi, Mr. Pierizzi, Mr. Passivo DJ, la lettera piccione, la ferma mate, di chi è nel peggio? Dalla da bassetti, Mr. Pommizzo Morandi, aria di lancere, ci siamo, ci siamo! Un ringrazio da Andrea Tilley, dopo anni è tornato un speciale, un gesto da piedi, sta in credi! Un ringrazio dauna parte, un giro di Laufani, da fiducia delle persone che non avrebbero al fog attracts. Je credo che ilczne 마çino, sicuramente sta in credito Ospanile Irovi, il dico a c security di Alcarabra here! Un ringrazio da твоi amici agnambra? Un ringrazio da che gli un giorni sinistra, come mani dico! Are you ready? Are you ready? Are you ready? A shot in the dark, a past, lost in space Where do I start, the past and the chase? You hunted me down like a wolf, a predator I felt like a deer in my love lights You loved me in a frozen time Hungry for that flesh of mine But I can compete with a sheeple who has brought me to my knees Where do you see them, those yellow eyes? Cause I'm falling to pieces 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 Grazie per la visione!